Allora, innanzitutto do il benvenuto a tutti, siamo lietissimi di presentare oggi questo libro, I poteri degli schermi, i contributi italiani a un dibattito internazionale a cura di Mauro Carbone, Anna Caterina Dal Massimo e Jacopo Bodini che vedete in questo momento sugli schermi con noi. Io sono Vittorio Gallese e con Michele Guerra alla fine del 2019 abbiamo deciso di intraprendere questa iniziativa, di fondare un laboratorio dal nome Neuroscience and the Humanities. Lo scopo di questo laboratorio è quello di creare dei ponti, un dialogo tra le neuroscienze cognitive e le scienze umane. Crediamo che ce ne sia un gran bisogno perché molti dei temi affrontati oggi dalle scienze umane, se mai è stato così, lo è ancora di più oggi, ci parlano del nostro presente, affrontano il presente con un pensiero critico di cui abbiamo disperato bisogno. Un rischio per le neuroscienze cognitive è quello di chiudersi, sigillarsi all'interno del laboratorio perdendo di vista tutto quanto c'è di interessante al di fuori. Anche perché, lasciatemi aggiungere, se le neuroscienze vogliono essere cognitive, utilizzano una metodologia e un livello di descrizione che gli è proprio, ma affrontano delle tematiche che sono le tematiche da sempre affrontate dalle scienze umane. Quindi gran parte dei quesiti che le neuroscienze cognitive cercano di affrontare col proprio livello di descrizione sono gli stessi quesiti, gli stessi interrogativi, gli stessi temi che occupano i colleghi delle scienze umane. Quindi siamo partiti alla fine del 2019, poi è arrivato il ciclone Covid-19 che ha bloccato ogni possibile iniziativa in presenza, ma questo è stato uno stimolo per realizzare delle iniziative che molto probabilmente, come dicevamo prima, nella chiacchierata iniziale, prima di aprire il collegamento al pubblico, ci ha consentito di fare delle cose in remoto che in presenza non avremmo potuto fare, tra cui un bel ciclo di cui è stato protagonista anche Mauro Carbone sugli schermi e quindi ricollegandoci idealmente a quel ciclo oggi affronteremo un libro italiano che testimonia la vitalità della ricerca italiana su questo tema attualissimo degli schermi. Non voglio sottrarre altro tempo, do la parola a Rita Messori che coorganizza questa serie di incontri. Prego Rita. Grazie Vittorio, grazie ai curatori del volume che hanno accettato di essere qui con noi, di presentare un'opera, un volume che per noi, come diceva Vittorio, è molto importante e che si inserisce all'interno di un percorso di iniziative, di ricerca, che ci auguriamo tutti che possa continuare. Quello che mi fa piacere dire, fa piacere condividere, è che l'iniziativa di oggi, come altre iniziative che si sono realizzate nei mesi scorsi, sono in collaborazione tra il laboratorio di Neuroscienze e Humanities, di cui anch'io faccio parte, e un laboratorio di estetica che è nato qualche anno fa e che vede le tre sedi regionali, cioè quella di Ferrara, quella di Modena e Reggio Emilia e quella di Parma, collaborare per promuovere e sicuramente rafforzare quello che è un ambito disciplinare presente in tutte e tre le sedi, che è l'estetica filosofica. E quello che contraddistingue il nostro lavoro e che ci ha permesso di incontrare e di incrociare il progetto di laboratorio di Vittorio e di Michele, ricordiamo che Michele è il vice direttore del laboratorio, è l'intenzione mia di Anna Maria Contini, di Modena e Reggio Emilia e anche di Anderagatti e di Ferrara, di abitare ai confini della disciplina. Siamo anche inseriti in contesti che ci permettono di metterci a confronto con altri studiusi che partengono a prospettive, che praticano delle prospettive diverse, ma che ugualmente avvertono la necessità di un confronto su alcune tematiche che necessitano un incrocio di prospettive. Ad esempio la collega Maria Contini ha molto lavorato sul rapporto tra estetica ed educazione. Abbiamo molto lavorato sulla metafora, su questa figura poetica e retorica che comunque si presta benissimo a un utilizzo in ambito educativo e ha ovviamente una serie di applicazioni e di possibilità di ricerca straordinarie. Lavoreremo anche sul paesaggio urbano, sul paesaggio in particolare sul paesaggio urbano e organizzeremo proprio come laboratorio di estetica interateneo un convegno a maggio e anche quello sarà rigorosamente interdisciplinare. Quindi un incontro quello di oggi che si inserisce all'interno di un incrocio anche di progetti e che ha visto diciamo come primo come primo evento, il ciclo a incontro con gli autori, la presentazione del volume di Michele Guerra, a cui hanno partecipato in terzi e che è stato davvero un buon inizio. Quindi ci auguriamo che anche oggi sia una buona occasione di confronto e anche di ripresa delle progettualità che ci accomunano. Io darei volentieri la parola a Michele, a Michele Guerra, sia in quale vice direttore del laboratorio sia anche perché presenterà immagino volentieri i curatori del volume. Grazie Rita, buongiorno a tutti anche da parte mia, sono molto contento di essere qui oggi perché credo che ci sia un forte debito della comunità scientifica del mio settore e non solo, anche di quelle di ambito filosofico, nonché neuroscientifico, nei confronti di Mauro Carbone e della sua scuola. Qui abbiamo Anna Caterina Dalmasso e Jacopo Bodini che hanno con lui curato il volume, i poteri degli scheri, ma che l'hanno accompagnato anche in molte altre avventure, nel grande progetto di Vivre Parmille Zocran, che è stato un vero e proprio cantiere di pensiero che ha attraversato in maniera molto produttiva le discipline. Oggi occuparsi di schermi significa occuparsi di un dispositivo che permette di verificare forme di pensiero tra loro molto diverse. La pandemia ci ha portati dentro un mondo che la teoria degli schermi in qualche modo aveva prefigurato, ma che nessuno poteva aspettarsi sarebbe diventato così pervasivo e così impattante sulla nostra esperienza di vita. Ed ecco che improvvisamente i campi di studio che Mauro Carbone e il suo gruppo sono stati capaci di convocare attorno agli screen studies, esiste veramente un filone di ricerca che si occupa di questi temi, mostra oggi tutta la sua produttività. E seguendo questo percorso attraverso il pensiero che i libri fatti da Filosofia Schermi di Mauro, dal progetto di Vivre Parmille Zocran, a questo Potere degli Schermi, che come diceva Vittorio raccoglie fin da sottotitolo i contributi italiani a un dibattito internazionale e ci fa piacere senza nessun campanilismo e senza nessun provincialismo dire che effettivamente l'Italia sta svolgendo un ruolo importante nel dibattito europeo da questo punto di vista e quindi una volta tanto che siamo sintonizzati su una interessante avanguardia di ricerca, diciamocelo Anna Caterina Dalmasso, lavora all'interno di un progetto IRC coordinato da Andrea Pinotti che peraltro è uno dei contributori del libro che insomma ribadisce questa presenza molto forte nel dibattito estetologico, filosofico, cinematografico, lo schermo è evidentemente qualcosa che ha a che fare in maniera preponderante con la cultura dei film studies e poi con quella dei media studies ci fa capire che siamo di fronte ad una zona estremamente produttiva per quello che riguarda le possibili intersezioni disciplinari e il libro che noi abbiamo scelto di presentare oggi ci aiuta proprio a fare questo, ci aiuta ad allargare l'orizzonte secondo quella che è una linea di ricerca cruciale del laboratorio di cui parlava Vittorio, noi abbiamo in questi anni di forte collaborazione sui temi neurocognitivi applicati ai discipline umanistiche tenuto sempre presente che per evitare quella pericolosissima tentazione del riduzionismo che certi approcci possono portare abbiamo costantemente bisogno di aprire frontiere di dialogo con studiosi e discipline più diverse che vanno da quelle umanistiche in senso ampio ma vanno anche a quelle informatiche ingegneristiche che ci permettono poi di lavorare anche sull'elaborazione dei dati, sui sistemi di interfaccia che di nuovo riconvocano la questione degli schermi. Quindi io ringrazio molto Mauro Carbone, Anna Caterina Dalmasso e Jacopo Bodini di essere con noi, noi adesso cediamo loro la parola perché abbiamo pensato di articolare questa presentazione attraverso i loro interventi, quindi interverranno i tre curatori del libro che però come vi ho spiegato animano da anni il dibattito internazionale sul tema degli schermi, i loro volumi sono apparsi anche in molte lingue, in molte traduzioni e quindi hanno avuto davvero una ottima diffusione e dopo questa loro presentazione porremo loro alcune domande sia naturalmente da parte mia di Vittorio e di Rita che da parte del pubblico e mi fa piacere che ci sia un buon seguito in questa presentazione e quindi daremo modo a tutti di poter poi dialogare con i nostri ospiti. Quindi io vi ringrazio ancora e lascerei la parola a questo punto a Mauro Carbone. Grazie. Grazie, buongiorno, grazie a tutti voi, Vittorio, Michele, Rita per questa presentazione, per queste parole che avete speso per presentarci, ce lo siamo detti in privato, ha tanto più senso a dircelo in pubblico, noi come Vivre parmi les écrans vi consideriamo un punto di riferimento decisivo e costante del nostro lavoro, guai se non ci foste voi con i quali poterci confrontare e interloquire e questo fa parte anche di quella primato che, come è stato già detto, i contributi italiani al dibattito internazionale sugli schermi continuano a segnare. non dimentico ma ricordo con orgoglio di essere stato professore invitato presso l'Università di Parma di essere membro del collegio docenti del dottorato, anche questi sono elementi importanti che testimoniano di un dialogo costante che si svolge e mi auguro continuerà a svolgersi a tutti i livelli tanto scientifico quanto istituzionale. Come è stato detto questo volume è un volume che nasce da un lavoro di riflessione comune sugli schermi che è stato avviato precisamente nove anni fa nel 2013 con le prime iniziative che abbiamo messo insieme con Anna Caterina Dalmasso e Jacopo Bodini qui a di riflessione di riflessione internazionale sulla problematica degli schermi e più in particolare questo volume è un volume che vi inviterei a considerare innanzitutto prendendo sul serio fino in fondo la scelta del suo titolo. I poteri degli schermi è un titolo che nello stesso tempo riecheggia ma nel riecheggiare si smarca da un titolo francese di un testo molto noto e importante di un semiologo come Louis Morin e il titolo del libro di Louis Morin era De pouvoir des pouvoir des imersionale. Quindi noi abbiamo scelto di intitolare il nostro volume I poteri degli schermi nello stesso tempo per rendere omaggio a quel volume di Louis Morin ma anche marcando una distinzione e uno scarto che invita a focalizzarsi appunto non tanto e non solo sulle immagini ma appunto sugli schermi che in fondo per troppo tempo sono stati considerati come come qualcosa che aveva un ruolo ancillare rispetto alle immagini. Ecco da ancelle delle immagini noi con questo volume più in generale con la nostra attività abbiamo cercato di dare agli schermi una dignità autonoma e questa autonomia degli schermi questa relativa autonomia degli schermi anche rispetto alle immagini mi sembra che sia uno dei dati più significativi della nostra proposta di riflessione della proposta di riflessione che è contenuta in questo volume. Gli schermi quindi rappresentano delle interfacce non soltanto delle superfici per mostrare delle immagini e in quanto interfacce appunto da un lato investono tutto il nostro rapporto corporeo con il mondo, non soltanto non soltanto il nostro rapporto visivo dall'altro ci invitano appunto a problematizzare una troppo frettolosa identificazione degli schermi nella superfici nella superfici che serve a mostrare delle immagini. Quindi autonomia degli schermi implicita sollecitazione a spostare il focus dal quello dell'esperienza visuale a quello più in generale dell'esperienza corporea che noi intratteniamo col mondo di cui gli schermi sono diventati sempre più un'interfaccia, ma un'interfaccia multimodale, non un'interfaccia semplicemente visuale. E da questo punto di vista un'altra idea che abbiamo voluto suggerire con il nostro volume, l'esperienza della pandemia è un'esperienza che ci ha molto aiutato a comprendere questo statuto, come dicevo, sinestesico degli schermi, cioè che abbraccia tutto il nostro rapporto sensibile col mondo e non soltanto un rapporto visuale o audiovisuale. Perché dico questo? Perché dico che la pandemia ci ha aiutato a vedere meglio questo? Nel mio intervento parlo della pandemia come un'esperienza che attraverso i confinamenti e l'uso che i confinamenti ci hanno imposto degli schermi come maniera per mantenere i nostri contatti con gli altri, dico che attraverso questa forzatura alla quale ci hanno obbligato di un uso costante degli schermi per le ragioni che dicevo, la pandemia ha funzionato come lo stimolatore di una sorta di epoche fenomenologica, cioè ci ha stimolato a mettere tra parentesi certe considerazioni degli schermi che noi andavamo in qualche modo ripetendo, portando con noi da molto tempo, ci hanno sollecitato a problematizzarle e a vedere gli schermi sotto una nuova luce, una nuova luce che l'esperienza del loro uso in tempo di pandemia ci ha consentito di sfruttare. Che cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto per esempio che gli schermi sono quelli delle mascherine con le quali dobbiamo andare in giro, è uno schermo quello del nostro corpo che siamo invitati ad utilizzare per creare una barriera fra noi e gli altri ed evitare eventuali diffusioni di contagio. Qui in Francia l'invito a fare i gesti barriera, cioè i gesti attraverso i quali proteggere il nostro corpo da quello degli altri e quello degli altri dal nostro è un tema molto importante. Mi sembrano esempi significativi di quello che dicevo. non si tratta quella degli schermi non è più soltanto evidente come esperienza visuale e audiovisuale, è diventata nella sua evidenza sempre più un'esperienza che dicevo sinestesica e quindi che abbraccia tutto il nostro rapporto col mondo e nella scoperta o nella riscoperta di questi elementi vi è stata anche la scoperta o la riscoperta in fondo dell'etimologia stessa della parola schermo che deriva dal francico schermain e vuol dire appunto difendere, proteggere. Quindi questa componente di protezione e per converso di esposizione che gli schermi comportano è diventata evidente come una componente non meno decisiva della componente di mostrazione e di nascondimento con le quali eravamo abituati a considerare gli schermi in precedenza e questo è il motivo per cui abbiamo deciso di intitolare la prima sezione del nostro volume appunto agli schermi in quanto superfici di visibilità e nello stesso tempo superfici di protezione. Grazie. Grazie, grazie Mauro. Io a questo punto direi di procedere, vedo che Jacopo è apparso sul nostro schermo, come capite abbiamo questo modo di apparire e scomparire per favorire poi la visione del relatore in maniera ottimale. Quindi Jacopo passo a te la parola. Grazie, grazie, grazie molto Michele. Ripartirò proprio da questo punto. Io ho preparato qualche slide per poter permettere insomma di mandare avanti il mio discorso in maniera il più spedita possibile. Spero che la visualizzazione sia ottimale se cerco di visualizzarla in modalità presentazione. Dunque, una delle questioni teoriche fondamentali che ci siamo posti quando abbiamo deciso di dare il via ai lavori che hanno poi composto questo volume, lavori che si sono proseguiti in seminari e convegni prima poi di arrivare alla forma dello scritto, insomma, è stata quella di come considerare questi schermi. Siamo di fronte chiaramente ad una proliferazione, ad una moltiplicazione, ad una mobilizzazione di quello che viene chiamato lo schermo, ma si tratta di parlare in realtà di dispositivi tra loro da un punto di vista tecnologico, da un punto di vista simbolico, da un punto di vista materiale e di materiale molto diversi. Siamo però riusciti in qualche modo a ricondurre questi dispositivi attorno ad una nozione, quella di dispositivo. Ma quale dispositivo intendiamo quando parliamo di schermo e di schermi in questi volumi? È chiaro che l'uso occorrente che viene fatto di questa parola oggigiorno rimanda all'inglese device e ci fa pensare all'oggetto. Ma nel nostro tentativo di elaborare questa riflessione sugli schermi, siamo andati ovviamente bene al di là dello schermo inteso come oggetto device e bene al di là di quello che può essere inteso come, diciamo, terminale, interfaccia nel senso limitante di terminale dello schermo di un dispositivo. Ma siamo risaliti a quella che era la definizione che Michel proponeva per il dispositivo. Quindi si tratta anche di uscire da quella che Bellur chiamava che era il dei dispositivi, cercando di differenziare tra appareggiare e dispositif e andare verso una definizione sicuramente più vasta e sicuramente più in qualche modo direi eterogenea, perché eterogeneo è il dispositivo stesso. Foucault definisce il dispositivo un insieme assolutamente eterogeneo che implica discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, come potete leggere, decisioni, legge, enunciati, proposizioni filosofiche, eccetera. Sono tanti quindi gli elementi che si riuniscono attorno al dispositivo e il dispositivo è ciò che fa le gamme, è ciò che li tiene insieme ed è in questo preciso senso che noi guardiamo allo schermo, come ciò che nella società attuale e contemporanea, nelle società attuali e contemporanee, assume sempre più il ruolo di legante di queste dimensioni, di queste manifestazioni, di queste istituzioni, di questi elementi così eterogenei che vanno a comporlo. E parlare di dispositivo è essenziale per parlare di poteri. Perché? Perché Foucault ci dice, sempre nella caratterizzazione del dispositivo, che il dispositivo sarebbe una specie di formazione che in un dato momento storico, e anche questo è un elemento fondamentale perché storicizza e lega a quello che è il presente, a quella che è l'attualità, con tutto poi la capacità genealogica che già era iscritta nel pensiero di Foucault e che abbiamo cercato in un qualche modo di riproporre anche all'interno di questo volume, di tornare poi indietro, ma lega alla dimensione contemporanea ed attuale questo discorso. Quindi il dispositivo sarebbe una sorta di formazione che ha avuto una funzione, o ha direi al presente, una funzione strategica dominante. In che cosa? In una certa manipolazione di rapporti di forza. E quindi parlare di poteri degli schermi è andare ad analizzare in qualche modo quelle che sono le funzioni strategiche che vengono messe in atto dagli schermi contemporanei per manipolare una serie di rapporti di forza. Mi permetto qui di rinviare ad una nozione che è fondamentale nell'economia, direi, concettuale dei nostri lavori, che è quella di Archischermo, una nozione introdotta da Mauro Carbone, che in qualche modo cerca di definire almeno una delle funzioni fondamentali dello schermo e di definire a partire da questa funzione un ritmo di variazioni, un rapporto di tema e variazioni che si sviluppa in senso storico. L'Archischermo indicherebbe in questo senso l'insieme delle condizioni di possibilità della mostrazione che nella nostra cultura sono state via aperte dal corpo umano stesso e funziona secondo due possibilità fondamentali. Da un lato lo schermo sarebbe una superficie che cela e dall'altro lo schermo sarebbe una superficie che mostra. In tal senso il riferimento al corpo quale superficie che cela e mostra al contempo è molto, come dire, in Francia direbbero molto parlante, è molto illuminante. Ciò che è particolarmente interessante, a mio modo di vedere, in questa nozione di Archischermo introdotta da Carbone è che sia come superficie di occultamento che come superficie di mostrazione l'Archischermo avrebbe questa capacità di sovradeterminare lo spazio al quale è correlato. Quindi presentando, lo schermo presenta sempre più di se stesso e produce sempre una eccedenza. Ed è a partire da questa funzione fondamentale dello schermo come dispositivo che in qualche modo oggi ha cercato di raggruppare in maniera del tutto parziale almeno cinque funzioni principali strategiche degli schermi di oggi giorno, degli schermi contemporanei. Cinque funzioni che si propongono di, come dire, gestire e manipolare i rapporti di forza e che in modo rendono conto di queste variazioni della funzione archischermica di cui parlavo prima. La prima funzione sarebbe quella di istituire dei regimi di visibilità e di enunciazione. Mi riferisco qui a Deleuze che, riprendendo la nozione di dispositivo di Foucault e cercando di elaborare una vera e propria filosofia dei dispositivi, ci dice che ogni dispositivo definisce un regime di luce e tramite questo regime di luce definisce ciò che è visibile e ciò che è invisibile e anche in maniera correlata ma in qualche modo separata un regime di enunciazione, ciò che è dicibile e ciò che è indicibile. E qui è chiaro, come dire, il riferimento a ciò che diceva Mauro poco fa sul fatto che lo schermo non si limita, gli schermi di oggi soprattutto non si limitano alle immagini ma debordano su tante altre dimensioni della nostra vita, una di queste è quella del linguaggio ed è quella dell'enunciazione che non è solo quella del, come dire, del linguaggio scritto ma anche del linguaggio parlato. Pensiamo ad esempio all'importanza della voce e delle comunicazioni vocali e come questa stia incrementando nei nostri rapporti con gli schermi. In ogni caso la capacità degli schermi di definire ciò che è visibile e invisibile, ciò che è decibile e indecibile ma anche ciò che è desiderabile, ciò su cui dobbiamo o dovremmo indirizzare la nostra attenzione, ciò che in qualche modo va a determinare i nostri stati emotivi, le nostre relazioni affettive è una o forse la funzione schermica principale ma quello che è interessante nell'analisi di questa è la sua determinazione storica in qualche modo, più che determinazione è un termine che non mi piace, c'è il fatto che ci sia una caratterizzazione storica dei dispositivi e dei regimi che questi istituiscono. Penso qui a tanti contributi che sono presenti nel nostro volume, ma in particolare a quello di Boradori, sull'aspetto della desiderabilità, a quello di Carocci, sull'attenzione, a quello di lingua, sulle forme razionali che si collegano agli schermi, a quello di Eugenie che parla addirittura di potere ipnotico degli schermi dovuto proprio alla capacità di generare determinati regimi di visibilità. Un'altra funzione che andrei ad analizzare e che era evocata poco fa da Mauro è quella di protezione ed esposizione. L'etimologia più condivisa della parola schermo rimanda proprio a questa funzione protettiva e l'ambiguità fondamentale degli schermi che mostrano e nascondono allo stesso tempo, che proteggono ed espongono quindi allo stesso tempo, ci permette di identificare una dinamica particolarmente interessante, soprattutto se pensiamo alla pervasività che gli schermi hanno oramai nelle nostre vite anche più intime. Questo sentimento di protezione che lo schermo ci permette di sviluppare nel rapporto con esso ci invita anche allo stesso tempo ad esporci maggiormente. Quindi è sempre fondamentale pensare agli schermi all'interno di questa relazione in qualche modo ambigua. Questo rapporto di protezione ed esposizione è stato esplorato in vari modi dai contributi del volume, penso ad esempio a quello di Francesco Casetti, penso anche a quello di Marta Neiaus e al suo modo di concettualizzare la figura del velo, ma penso anche, e non so se loro saranno d'accordo, ma magari ne parleremo successivamente, a quello di Vittorio Gallese e Michele Guerra che riportando lo schermo alla pelle in qualche modo insistono su questa dimensione doppia, ambigua, di protezione ed esposizione, di opacità e trasparenza che non è solo visiva ma è anche assolutamente tattile e corporea. C'è poi una funzione particolarmente interessante che combina con le due precedenti e con quella che io chiamo di presenza negativa, che esprime quell'eccedenza che è propria alla funzione archischermica. Diciamo che Lyotard descriveva la modulazione del sentimento sublime in Kant come effetto di una presentazione negativa, cioè mostrare che c'è qualcosa che non posso presentare. C'è sempre un'eccedenza in qualche modo che si istituisce mediante la presentazione stessa, quindi che non precede la presentazione, ma che nella presentazione viene istituita come eccedenza della presentazione stessa. E gli schermi, combinando le funzioni di mostrazione ed esposizione e di occultamento e protezione, non fanno che continuare a produrre delle eccedenze. Da un lato proteggendo, diciamo, lo spettatore o proteggendo ciò che viene mostrato, ma dall'altro esponendo. Quindi in questa combinazione abbiamo sempre la possibilità di eccedere e di, come dire, avere a che fare con ciò che è il cinema, che è sempre molto attivo e presente anche negli schermi che non sono quello cinematografico. Penso qui ai contributi di Pinotti, di Dalmasso, di Cometa e a tutta la sezione che abbiamo definito a partire dalla delimitazione che viene eccedere. E poi, molto ovviamente, passo alle ultime due funzioni che ho selezionato. Da un lato quella di selezione di spettacolo, si tratta di una funzione che in qualche modo ho voluto identificare a partire dal contributo di Giorgio Avezzù, che ricostruisce un'originale etimologia di schermo che rimanderebbe al latino cernere. Lo schermo in questo modo entrerebbe all'interno di una funzione di disinzione, discernimento, che sarebbe anche quella che è alla base dello spettacolo, perché lo spettacolo è ciò che viene appunto distinto e posto in questo modo in evidenza. Ed è curioso vedere come una simile etimologia viene in un altro testo che abbiamo curato insieme, messo in evidenza, ricostruita in qualche modo da Richard Grusin, che rimanda il verbo inglese screen all'accezione di setacciare. Quindi lo schermo che opera come un filtro, come un setaccio, che seleziona delle porzioni di realtà che le trasforma anche, le trasforma per esempio in dati, e istituisce, e questo è fondamentale a mio modo di vedere, una distanza, uno scarto rispetto ad esse, creando così una possibilità di spettacolarizzazione. E infine abbiamo la funzione di parete speculare, che è la funzione di presentare una superficie che possa offrire a chi vi è di fronte un'esperienza di reversibilità. e quindi siamo sempre da entrambi, se vogliamo dirlo, i lati e lo schermo. Siamo parte di quella che è l'ambiguità dello schermo, come il rimando dell'archischermo al corpo che faceva un'apertura ci fa comprendere. Ma questa esperienza di reversibilità ci propone anche delle esperienze di identificazione, un'identificazione che può essere certo visiva e visuale, che può essere corporea, ma che può essere anche un'identificazione a partire da altri elementi, come possono essere per esempio oggi i big data. E quindi si tratta, ragionando di schermi, anche di ragionare, di schermi in quanto dispositivi, anche di ragionare su quale tipo di soggettivazione, per dirla con Foucault, ogni dispositivo produce un processo di soggettivazione, quale tipo di soggettivazione o di individuazione, se vogliamo richiamare Simondon, o di individuazione, se vogliamo richiamare invece carbone, ha luogo tramite questi dispositivi. E lascio la parola ad Anna Caterina. Grazie Jacopo, allora ecco Anna Caterina del Basso. Eccomi. Allora, provo a proseguire questa prima ricognizione riflessione nei poteri degli schermi. Allora, riprendo quello che diceva in apertura anche Mauro Carbone, ricordando come questa riflessione collettiva è nata anche in dialogo, ma anche in contrasto con la riflessione che da alcuni decenni si sviluppa sui poteri delle immagini, quella traiettoria di pensiero che ha collegato la teoria, l'antropologia delle immagini, anche l'estetica contemporanea, che ha portato la nostra attenzione su la agency che le immagini esercitano sul vedente. E allora, una riflessione sui poteri degli schermi parte innanzitutto dall'intenzione di prendere in conto la agency dello schermo, degli schermi, che si declina in diversi contributi raccolti nel volume, per pensare proprio la loro autonomia rispetto ai loro fruitori o agli utenti, ma anche, come ricordava Mauro, rispetto alle immagini. Sempre di più, oggi, rapportarsi agli schermi significa non solamente visualizzare delle immagini, implica avere rapporto con un'interfaccia che tende a essere multisensoriale, sinestetica, e quindi a relazionarci direttamente con un potere, con una agency degli schermi, o, come suggerisce il contributo di Pietro Montani, una performatività degli schermi. O, lo ricordava già Jacopo, un potere di ipnosi degli schermi, come suggerisce il contributo di Ruggero Eugeni, che sono in grado, proprio attraverso il particolare regime di visibilità e di luce che implicano, a mettere in moto un'economia dell'attenzione. che caratterizza il nostro regime scopico e mediale contemporaneo, e su cui verte il contributo di Enrico Carocci. Ma, potremmo dire, c'è anche un altro potere degli schermi che è implicato da queste diverse declinazioni, e che ritroviamo anche, per esempio, nel contributo di Jacopo Godini, per cui oggi non possiamo fare a meno di osservare che rapportarsi a uno schermo significa anche sempre avere rapporto con delle intelligenze artificiali. significa essere in relazione con degli algoritmi che registrano le nostre tracce, che percorrono e registrano le tracce della nostra vita tanto online quanto offline, e che a partire da questa raccolta di tracce e quindi di dati orientano anche i nostri percorsi di vita. Oggi, per maneggiare questi strumenti, significa esercitare un potere di previsione, significa saper prevedere i comportamenti degli utenti e indirizzarli con delle implicazioni politiche e biopolitiche significative, esercitando un potere che per certi versi è simile a quello che nella storia è stato messo in campo dalla futurologia, come scienza e come comportamento antropologico che caratterizza l'atteggiamento dell'uomo fin dal più lontano passato. Possiamo dire quindi che gli schermi sono anche oggi delle superfici di divinazione in questo senso e in chiave archeologica potremmo ricondurre quindi il nostro rapporto a questa superficie che è lo schermo a delle forme antiche di chiaroveggenza per leggere ad esempio lo schermo come quel templum della divinazione etruscolatina come quel perimetro che l'augure tracciava per poter osservare al suo interno il passaggio degli uccelli a cui attribuire un significato ultraterreno e che è alla base come ad esempio del famoso mito della fondazione di Roma e del rito che lo precede in cui Romolo e Remo osservano il volo degli uccelli. Allora, chi oggi detiene il controllo di queste superfici di divinazione che sono gli schermi e quindi chi detiene le capacità di data mining e di data analysis detiene un potere di previsione. Potremmo dire che cos'è in fondo la machine vision se non una forma di divinazione della quarta rivoluzione industriale che allo stesso tempo fa parte di una più ampia tendenza a quella che Richard Grusin ha definito come premediazione quella tendenza che caratterizza la medialità contemporanea a partire dall'evento traumatico dell'11 settembre che ha realizzato in maniera fin troppo immediata quella ricerca di un rapporto in tempo reale con gli eventi che i media veicolavano e quindi una tendenza che caratterizza il regime contemporaneo della medialità ad anticipare costantemente tutti gli scenari possibili proprio per prevenire che il reale possa colpirci di nuovo nella forma di uno shock e in una forma traumatica che è quindi una delle possibili declinazioni di questa forma di potere di previsione e allo stesso tempo con il loro modo di sollecitarci in maniera come si dice push il potere degli schermi in quanto potere degli algoritmi si estende fino a inclinare oggi i nostri atteggiamenti i nostri comportamenti e anche i nostri desideri dalla scelta di quale serie televisiva guardare fino a quella della scelta del nostro partner sessuale in un contesto in cui i nostri desideri si compenetrano sempre di più con quelli delle macchine e degli schermi ma la pandemia come ha ricordato Mauro Carbone ha consacrato il ruolo centrale degli schermi nelle nostre esistenze incarnate ma allo stesso tempo molti fenomeni della medialità contemporanea sembrano anche fare segno verso una progressiva scomparsa degli schermi ed è qui che la riflessione collettiva attorno ai poteri degli schermi diventa ancora più decisiva abbiamo sentito nei giorni passati l'annuncio da parte di Mark Zuckerberg della trasformazione dell'universo Facebook in un metaverso in un in un nuovo universo definitivo in cui tutte le nostre interazioni mediali saranno accolte in un unico alveo in questo ambiente immersivo all'interno di un'immagine volumetrica e multisensoriale questione a cui ha dedicato il contributo di Andrea Pinotti raccolto nel volume e come ricordava Michele Guerra il progetto di ricerca a Nikon di cui faccio parte all'Università di Milano e che è quindi uno dei dei modi degli esempi in cui sembrerebbe che almeno in apparenza gli schermi vengano meno lasciando posto a un'interfaccia immersiva e a tendere che venga a eliminare di fatto la materialità dello schermo in una prospettiva di fruizione brainwired di queste tecnologie un altro esempio è quello degli ologrammi di tutta la ricerca che è dedicata all'implementazione di queste tecnologie di visione di visualizzazione in cui però ancora non sembra affermarsi una tecnologia che ci consente effettivamente di fare a meno di una superficie di proiezione la ricerca più avanzata sugli ologrammi necessita sempre ancora di utilizzare delle superfici che ci consentano effettivamente di far apparire su una materialità per quanto eterea per quanto il più possibile immateriale come l'uso di vapore acque o di superfici di vetro o ancora di forme di ionizzazione delle molecole presenti nell'aria ma sempre questa tendenza a una smaterializzazione dello schermo si scontra in realtà con questo limite concreto e per altro verso gli schermi come interfacce visuali sembrano lasciare spazio a delle interfacce tattili e questa la direzione che suggerisce anche il contributo di Vittorio Gallese e Michele Guerra che parla di una schermo pelle ma gli schermi sembrano scomparire anche come dicevo schermi come interfacce visuali sembrano scomparire nella misura in cui le nostre interazioni con gli algoritmi sono sempre più basate su un'interazione gestuale che passa per la misurazione del corpo per la raccolta quindi di dati biometrici in cui viene meno quindi la funzione di interfaccia che per eccellenza era assunta dallo schermo e più in generale potremmo dire questo tentativo questa tendenza a liberarsi degli schermi incarna anche un desiderio fantasmatico che è ancora quello di attuare una mediazione che sia assolutamente trasparente realizzare una immediatezza assoluta in cui si ripropone il mito di una mediazione che possa liberarsi di fatto della presenza del medium e liberarci così dalla materialità degli schermi quindi di fronte a questi diversi fenomeni che parallelamente puntano a una progressiva o potenziale scomparsa degli schermi proprio qui si situa l'interesse e il senso decisivo di un lavoro archeologico sugli schermi nel doppio senso di un'archeologia dei media che anima diversi contributi anche se in senso più ampio in parte la riflessione che accennavo prima nel mio contributo su attorno alla questione della previsione del templum ma anche il contributo di Michele Cometa di Francesco Casetti e di Giorgio Avezzù che vanno appunto in una direzione di un lavoro archeologico e la ricerca di una scena primaria degli schermi ma anche nel senso di una riflessione su quello che Mauro Carbone ha chiamato l'archischermo come proprio come condizione di possibilità della struttura stessa dell'apparire quindi pensare gli schermi oggi esige da noi di andare oltre una considerazione degli schermi digitali come dispositivo concreto per interrogare più radicalmente gli schermi come struttura della medialità e come condizione di possibilità della mostrazione innanzitutto del corpo umano e quindi del nostro rapporto con i media eccoci grazie grazie anche Anna Cattelina vedo già Vittorio collegato perché so che ha delle domande tra l'altro proprio per te come annunciato nel prediretta e poi naturalmente sentiamo anche Rita cominciamo la nostra discussione che come dicevo darà modo poi anche agli altri partecipanti prenotandosi per alzata di mano di poter interloquire con Mauro Jacopo e Anna Cattelina prego Vittorio bene innanzitutto grazie ai tre curatori per essere stati concisi ma al tempo stesso ricchi di sollecitazioni e se qualcuno dei presenti non ha ancora letto il libro direi che dopo aver sentito Mauro Jacopo e Anna Cattelina correrà in libreria a comprarlo come una preziosa bussola per capire bene in che mondo ci troviamo volevo fare una domanda a Anna Cattelina e poi ne ho una seconda che rivolgo a chi dei tre curatori si senta di rispondere nell'ultima parte del tuo capitolo tu fai un richiamo che hai brevemente ripreso nel tuo intervento al concetto di premediazione di Grusin volevo citare proprio un brano conclusivo del tuo capitolo dove scrivi attraverso il suo funzionamento predittivo la medialità contemporanea fa sì che il futuro penetri costantemente nel presente anticipandolo e riconfigurando il presente come sistema virtuale di attese e di destini figurabili i cui effetti modificano costantemente l'attuale coglibile ormai solo come passato ecco ti chiederei se è possibile di approfondire un po' questo aspetto devo dire che è dal mio punto di vista clamorosamente importante nel mostrare quanto questa nuova medialità degli schermi digitali abbia delle ricadute molto importanti proprio sul modo con cui addirittura viviamo la nostra vita nel senso di guardiamo al rapporto tra presente e futuro la seconda domanda invece è relativa alla relazione mediale in termini molto generali schematizzando possiamo descrivere la relazione mediale come una triangolazione tra immagine sguardo mediata dal dispositivo ora oggi l'evoluzione del dispositivo in qualche modo trasforma l'immagine che attraverso lo schermo ci appare ancora come tale ma in realtà quello che noi guardiamo come un'immagine è una serie di dati quindi questa caratteristica dell'immagine che in realtà sotto mentite spoglie nasconde dei dati dati elaborati da algoritmi che hanno una potenza computazionale di gran lunga eccedente la capacità di computazione del nostro cervello pone dei grossi problemi recentemente Ruggero Eugenio nel suo capitale algoritmico parla addirittura di annichilazione annullamento cancellazione dello sguardo quindi in una qualche misura volendo imboccare il versante apocalittico poi nel libro c'è anche chi vuole vedere il bicchiere mezzo pieno e io penso subito a Pietro Montani come a un diciamo un sostenitore di quanto di buono i nuovi schermi ci consentono ecco ero curioso di avere una vostra reazione a questa nuova medialità algoritmica che riconfigura il rapporto sguardo immagine grazie grazie Vittorio innanzitutto per questa domanda sul mio contributo che mi fa molto piacere perché ero ansiosa di confrontarmi con voi attorno a queste questioni e in particolare su questa questione della temporalità che della temporalità dei dispositivi della temporalità degli schermi della temporalità che ci impongono di vivere e di pensare e qui diciamo secondo me in questo nodo quello che stiamo ancora cercando di pensare è quel tipo di rapporto che si instaura con i media con la loro materialità per cui abbiamo rapporto con dei dispositivi che costruiamo informiamo e che parallelamente ci informano allora è questo questo rapporto di coimplicazione di reciprocità che diciamo a cui si è applicata la filosofia della tecnologia per pensare il rapporto con i dispositivi non semplicemente in una direzione di materialismo o di determinismo tecnologico implica ancora da noi una riflessione che secondo me non è affatto risolta c'è ancora in sospeso ci sono tanti spunti tanti modelli a partire da cui pensarlo penso appunto al material engagement in cui si coniuga la post fenomenologia e la riflessione dell'archeologia cognitiva però o anche ad altri contributi in questo senso come il rapporto tra protesi epitesi in willen flusser che cercano di dare parola a questo rapporto con la materialità dei media come rapporto temporale anche e allo stesso tempo appunto mi sembra che questo sia ancora un nodo assolutamente aperto in questo senso quello che cercavo di articolare pensando al nostro rapporto diciamo un rapporto con un dispositivo divinatorio era un po' questo anche un modello cercare di pensare a un modello di temporalità in cui il futuro sia già implicato nel presente proprio da questo movimento di intenzionalità dei media che si rivolgono verso di noi che anticipano e prevengono premediano il nostro rapporto con il mondo e a partire dal quale non possiamo a partire dal quale dobbiamo pensare le nostre interazioni con l'ambiente per non ritrovarci a pensare ancora a un soggetto fatto e finito che si relaziona con un universo mediale e un universo di senso ma sempre pensando a un soggetto che è in continuazione chiamato in un rapporto di feedback a rideterminarsi a riposizionarsi rispetto a questo panorama mediale non so se ti ho risposto però diciamo ma questo è il nodo che a me interessa legato proprio a una questione di come pensare il nostro rapporto con la tecnologia più in generale e sulla seconda questione che poni ma che capisco è in realtà non solo cioè che è una questione che ci interroga tutti in questo senso è il punto è proprio come concepire oggi quel processo che ancora chiamiamo visione che è la machine vision cioè se ancora in che modo pensare il rapporto e qui la questione dell'empatia è fondamentale perché ci ritroviamo a pensare un dispositivo che ha un rapporto empatico nei nostri confronti non solo pensare l'idea ancora limite ma di un'intelligenza artificiale che presenta un'intenzionalità nei nostri confronti e che noi non possiamo fare a meno di immaginare secondo delle categorie di fatto antropomorfe ma dobbiamo appunto fare questo sforzo teorico per concettualizzare una visione che non sia di fatto una visione e in questo senso il contributo di Ruggero Eugenie è appunto non forse in questo senso dicevi lo categorizzavi come sul versante più apocalittico però appunto è necessaria una riflessione anche critica proprio per articolare questo discorso ma lascio la parola a Mauro a Jacopo e a chi vuole intervenire grazie grazie Anna Caterina grazie Cati io mi permetto molto brevemente dopo lascio la parola a Mauro ma semplicemente mi interessava introdurre all'interno di questa riflessione su cosa ne è dello sguardo della visione un concetto che forse sembra molto distante ma che in realtà secondo me è ancora centrale che è la schisi tra occhio e sguardo che propone Lacan e nell'immaginare una visione che sia in qualche modo separata da quella che è il modo in cui concepiamo la visione ottica oggigiorno secondo me ci può stare all'interno di questa separazione un modo di sicuramente salvare la categoria di sguardo ma di dare una profondità diversa a questa categoria quindi lo sguardo può anche essere uno sguardo che non vede o che non vede in senso ottico e più in generale anzitutto io direi che da questi schermi noi ci sentiamo guardati quindi io non parlerei di una scomparsa dello sguardo perché il primo sguardo che abbiamo lo riceviamo noi stessi e poi evidentemente lo ritorniamo in qualche modo lo restituiamo al mondo tramite gli schermi e lì sicuramente si tratta di uno sguardo che sarà domesticato sarà indirizzato manipolato costruito anche algoritmicamente eccetera eccetera però penso che in questo sentirci guardati ci sia poi anche in noi la possibilità di recuperare uno sguardo al di là di ciò che ci viene fatto vedere io reagisco a mia volta alla domanda di Vittorio riguardante il rapporto sguardo immagine oggi ascoltandola pensavo alla tecnologia dell'eye tracking che è una tecnologia come sapete molto importante e sempre più diffusa anche ma non soltanto per quell'ambito che è del neuromarketing quindi della possibilità di utilizzare certe tecnologie a favore dello sviluppo del mercato ecco la i modelli diciamo più a buon mercato di eye tracking sono dei modelli che funzionano proiettando un fascio di luce a raggi infrarossi in certe parti dell'occhio di colui che è un consumatore che si trova per esempio in un supermercato per capire dai suoi movimenti oculari che cosa attira prima e più a lungo la sua attenzione in modo da ricavarne dei dati che servono a orientarne poi gli acquisti mi sembra che questo sia un esempio molto significativo innanzitutto del fatto che si vada sempre più a utilizzare certi organi del nostro corpo come superfici schermiche quindi gli schermi di silicone vanno via via scomparendo questo non significa la scomparsa degli schermi purché appunto si riconosca agli schermi una autonomia rispetto alle immagini che ci può consentire di comprendere meglio il loro avvenire piuttosto che la loro scomparsa l'utilizzazione della retina come viene messo in evidenza nell'intervento di Martha Neyhouse compreso nel libro o della pelle come è sottolineato nel vostro quali superfici schermiche sta diventando e diventerà sempre più significativo ma l'esempio dell'eye tracking che sto evocando sembra suggerire addirittura rispetto alla domanda di vittorio che ne è dello sguardo rispetto all'immagine un divenire immagine dello sguardo nel senso che appunto proiettando il fascio di raggi infrarossi nella retina quello che alla macchina interessa catturare è appunto lo sguardo quindi lo sguardo diventa a sua volta l'immagine che viene catturata dalla tecnologia in questione in questo senso andrei nella direzione di Jacopo di dire stiamo attenti a cantare troppo presto il De Profundis alla scomparsa dello sguardo stiamo attenti perché invece quello che può succedere è qualcosa di molto più insidioso ecco grazie grazie per le risposte e do la parola a Michele sì Rita forse volevi anche tu intervenire come preferite no no come avevamo concordato Michele io intervengo dopo un paio di domande anch'io volevo intanto sentire se ci sono delle domande dal pubblico perché poi non vorrei che passasse il tempo che abbiamo a disposizione e rimanessimo senza la possibilità di di sentire anche il pubblico e intanto che ci pensate io ho una domanda che rivolgerei a tutti e tre e in particolar modo magari partendo da Anna Caterina Dalmasso perché ci riconduce un po' al tema che stanno studiando con il gruppo di Andrea Pinotti nel progetto IRC cioè questa idea di un'immagine che in qualche modo rompe i suoi confini esce dall'idea di una forma di interazione di intersoggettività tradizionale complica notevolmente il nostro modo di concepire la presenza del corpo all'interno dell'immagine è un po' al centro anche dell'ultimo volume che Andrea Pinotti ha pubblicato alla soglia dell'immagine dove il sottotitolo parte da Narciso e arriva alla realtà virtuale quindi ci conduce all'interno anche di un'idea mitica di relazione con l'immagine che oggi in effetti vediamo non dico messa in crisi ma senz'altro al centro di un processo di forte riconsiderazione ecco vorrei chiedere la rivolgo a tutti e tre ma adesso ho citato a una catena dal masso perché lavora dentro quell'IRC a partire da questo cambiamento dei confini dell'immagine e quindi anche della rimodulazione dei temi filosofici attorno allo schermo quali sono secondo voi i temi cruciali che ci vedranno impegnati nei prossimi anni perché è evidente che stiamo parlando di un dispositivo che tiene un passo tecnologico talmente rapido che costringe poi noi in qualche modo a diseguirlo sia col pensiero che col comportamento grazie grazie Michele sì ti ringrazio perché appunto mi permette anche di la sua domanda mi permette anche di fare proprio una connessione più forte tra tutto questo lavoro che ci ha visto impegnati per diversi anni e ci vede ancora adesso attorno agli schermi e invece la sfida che ci pone oggi la realtà virtuale e in generale un'esperienza immersiva dell'immagine diciamo che secondo me la questione come diceva Mauro appunto per cui non possiamo non possiamo ancora non possiamo accettare l'idea che lo schermo venga meno è perché anche in questa in questa nuova configurazione in cui il corpo si trova compreso all'interno dell'immagine ma anche allo stesso tempo catturato nell'immagine per cui non non possiamo più liberamente guardare al di fuori dei confini del perimetro dell'immagine che era istituito dalla cornice in realtà non dobbiamo dimenticare che quello che funziona da schermo costantemente è proprio il corpo del sperimentatore o dello spettatore se vogliamo ancora utilizzare questa categoria in quanto il suo il suo sguardo incarnato è proprio quello che viene a determinare la genesi continua dell'immagine quindi la sfida è quella di pensare un rapporto performativo tra corpo e immagine tra corpo e schermo cioè tra corpo e immagine la cui struttura è sempre ancora da ricercare nel rapporto con il dispositivo dello schermo e quindi in questo senso diciamo leggerei in assoluta continuità la questione degli schermi e il modo in cui oggi questi ambienti immersivi riconfigurano la nostra esperienza dell'immagine non so se Mauro vuole intervenire se no posso iniziare a rispondere sì sì comincia pure tu Jacopo comincia pure tu grazie sono assolutamente d'accordo con quanto è detto finora io magari riprendo una questione in questo tentativo di immaginare dove potranno andare le trasformazioni tecnologiche ma anche l'evoluzione della ricerca in qualche modo nei prossimi anni uno dei temi che mi è molto caro su cui sto lavorando vedo che c'è qui anche Elena Mosconi abbiamo fatto un po' di cose insieme ultimamente su questo tema è il tema della voce il tema della voce che diventa un tema sempre più importante nella nostra relazione con gli schermi o con dei dispositivi che poi rimandano a degli schermi pensiamo solo al fatto che comunque lo schermo per eccellenza oggigiorno è lo schermo del telefono lo chiamiamo ancora telefono il telefono era un dispositivo tecnologico in cui la voce regnava sovrana e che ancora oggi comunque si attiva sempre più per comandi vocali oppure usiamo per lasciare messaggi vocali insomma ci sono tante dimensioni che in qualche modo debordano la dimensione visiva e vanno in quella sonora in tal senso il confronto con la riflessione sul cinema è molto interessante perché Shion l'ha messo in evidenza in maniera magistrale e tanti altri dopo di lui penso anche a Dollar sotto l'aspetto se vogliamo un po' psicoanalitico di come il sonoro e in particolare la voce sia sempre un'eccedenza rispetto a quello che è il campo del visivo e la possibilità di rendere conto di queste eccedenze è sicuramente un qualcosa che ci ricollega al tema dello schermo se anche non vediamo lo schermo lo schermo dicevamo prima sovratermina lo spazio implica sempre un'eccedenza e se pensiamo alla voce anche la voce umana è il fatto che esca da un corpo esce dalla bocca ma non si capisce bene da dove esca come venga prodotta anche lì c'è subito una dimensione schermica senza ma non vediamo pensiamo alle sirene di Ulisse ad esempio pensiamo a tantissimi esempi alla voce di Dio che possiamo sentire nella Bibbia senza vedere ovviamente il suo volto quindi sono tante le dimostrazioni di eccedenza che la cultura umana ha associato alla voce penso che oggi questo tema si riproponga si riproponga in tante versioni diverse da un lato c'è chiaramente un residuo se vogliamo di umanità di personalità di unicità che colleghiamo a questo tema penso ad esempio al fatto stesso di lasciare un messaggio vocale che implica non solo che io non devo pensare a cosa scrivere e dico riverso tutto in questa sorta di cestino che è il messaggio vocale ma anche che magari io posso far sentire la voce di qualcuno pensiamo a come oggigiorno possiamo purtroppo se qualcuno è venuto a mancare avere la voce di questa persona nella chat di whatsapp e possiamo tornare a risentirla o in un esempio meno drammatico la voce della ex o dell'ex che possiamo andare a risentire sono degli aspetti secondo me ancora molto da studiare per la loro importanza sul nostro modo di vivere oggi di schermi ma poi ci sono anche altri aspetti della voce pensiamo a come le voci ci guidano a come una voce può in qualche modo indirizzarci la voce al gps o come i podcast oggi siano diventati il modo di studiare tra virgolette di apprendere di informarsi più diffuso perché ci permettono di fare tante altre cose certo ma anche perché c'è questa sorta di narrazione che si insinua nelle nostre orecchie spesso anche in maniera fisicamente diciamo insinuata e quindi penso che lì ci sia una buona parte di futuro di schermi penso anche chiudo qui alla realtà virtuale che ha nella dimensione sonora un aspetto fondamentale e se pensiamo alle prime installazioni artistiche di realtà virtuale in tante di queste la dimensione vocale la dimensione del respiro il fatto di poter respirare all'interno di questa penso ad alcune in cui ad esempio il respiro viene usato come metodo di controllo invece di usare gli occhi o invece di usare le mani si usa il respiro per gestire l'esperienza dell'utilizzatore diciamo dell'opera d'arte in quel caso anche qui torniamo alla dimensione incorporata della voce e quindi a ciò che diceva Anna Caterina prima Io ma io ritornerei a quello che dicevo all'inizio cioè che sempre più grazie all'esperienza degli schermi durante la pandemia si è andata manifestando e sempre più si andrà manifestando a mio parere insieme alla funzione dimostrare e nascondere degli schermi la funzione di esporre e proteggere e mi sembra che già adesso ma penso sempre di più in futuro assisteremo a delle variazioni chiasmatiche per usare un termine merlopontiano dei rinvii tra queste due coppie di funzioni per esempio per esempio all'uso degli schermi durante la pandemia che è stato in molte circostanze un uso che consisteva nel mostrare proteggendo pensate agli schermi di plastica che venivano stesi nelle cosiddette camere degli abbracci c'era da un lato l'intenzione di mostrare dall'altro quella di proteggere e mi sembra che in questo senso ci sia questo chiasma che unisce trasversalmente queste due coppie di funzioni che gli schermi sono andati sempre più manifestando appunto durante il periodo della pandemia e che sempre più rimettono al centro la nostra esperienza corporea appunto in un senso che prima definivo sinestesico e che senz'altro quindi eccede quella visuale o audiovisuale mi veniva fatto di pensare a questo proposito in questi giorni a quella ipotesi che già una ventina d'anni fa Manovic faceva in il linguaggio dei nuovi media sulla doppia genealogia che si potrebbe disegnare degli schermi da un lato la genealogia fotografia televisione che è la genealogia che mette al centro e empatizza la funzione dimostrare nascondere ma dall'altro la genealogia che lui collega innanzitutto allo sviluppo dei radar dove abbiamo una strategia militare di valorizzazione degli schermi che va nel senso dell'esporre e proteggere e che in fondo possiamo ritrovare nel versante di controllo e di protezione che oggi molto spesso gli schermi incarnano ecco mi sembra che gli schermi attuali nel loro intrecciare le coppie di funzioni che dicevo prima mostrino appunto di avere alle spalle l'intrecciarsi di questa duplice ascendenza su cui a mio parere dovremo assistere anche in futuro a sviluppi che continueranno a tenere insieme i due aspetti grazie grazie davvero a tutti e tre io ho visto che non ci sono ancora mani alzate nel pubblico quindi a questo punto Rita passo a te la parola sì grazie grazie per la chiarezza per la precisione sia ad Anna Caterina sia a Jacopo sia ovviamente all'amico Mauro questo incontro farà parte del materiale didattico del mio corso e chiederò poi a Jacopo di passarmi il powerpoint perché per gli studenti sarà utilissimo quindi davvero mille grazie io avrei una domanda da fare a Mauro che mi permette di riprendere anche quanto era stato detto quando Mauro è venuto a Parma qualche anno fa era il momento direi anche in cui aveva pubblicato Filosofia Schermi che abbiamo tra l'altro presentato da Feltrinelli a Parma da Feltrinelli quindi mi sembra come dire di poter riprendere anche un percorso che è iniziato qualche anno fa quando presentammo il tuo volume Mauro emerse una questione che tu hai ripreso oggi quella del rapporto tra pubblico e privato che ci consente lo schermo e come dire anche in termini di continuità mi fa piacere constatare che c'è da parte tua una bella insistenza sempre ben argomentata molto convincente sullo schermo come interfaccia cioè non soltanto come mera superficie ma come la possibilità di collegare di legare anche di fare interagire delle polarità differenti in definitiva che noi abbiamo ereditato dalla modernità è come se lo schermo ci potesse consentire una spesso anche una concreta relazione interazione tra delle polarità differenti come l'interno e l'esterno ma soprattutto penso al pubblico e al privato che è emersa chiaramente durante il lockdown durante la pandemia ma che già emergeva Mauro quando tu eri a Parma qualche anno fa perché la questione era squisitamente politica a quei tempi cioè si può possiamo pensare a una una sorta di politica diretta che va a mettere in crisi i poteri intermedi e lo schermo sembrava diventare in quel periodo come lo è anche ora una forma di rapporto diretto col cittadino ecco come ti pare che questo rapporto tra pubblico e privato si sia trasformato all'interno della pandemia e il ruolo che hanno giocato gli schermi è un problemone mi eri andato conto una grossa questione ma di cui io parlerò durante il corso e volevo avere un tuo un tuo parere ti ringrazio moltissimo di questa domanda in effetti è è un problemone in un certo senso adesso la prima cosa che mi viene in mente ti farà sorridere Rita quando ascoltavo la tua domanda è a questo fatto che durante i collegamenti attraverso gli schermi che si fanno in moltissime occasioni a partire dall'inizio della pandemia il rapporto pubblico e privato è un rapporto che ha perso come dire ha reso sempre più porosi i confini tra l'uno e l'altro io mi diverto quando parlo faccio ricevimento studenti online a cercare di leggere mentre lo studente mi sta raccontando la sua tesi i titoli dei libri che lui ha alle spalle e sono molto fiero se volete fare la stessa cosa con i titoli dei libri che ho alle spalle io di poter esibire tra gli altri Io Paperino che è un libro che ho voluto lasciare in quel punto che viene focalizzato dallo schermo proprio per introdurre una nota ironica rispetto al fatto che di solito noi professori ci esibiamo nelle nostre conversazioni con dietro poderose librerie che impressionerebbero chiunque ma penso anche ad altre circostanze che vi ricorderete avevano fatto sorridere e gridare allo scandalo allo stesso tempo del tipo quella di forse era un giornalista spagnolo che aveva fatto una diretta con alle spalle una donna seminuda che non era sua moglie che attraversava la superfile lo spazio dello schermo ecco in questo senso dicevo come in un certo senso è successo per la distinzione tra lavoro e non lavoro che è una distinzione ormai perduta ahimè e alla quale cominciamo a guardare con un certo rimpianto perché è esistito un tempo in cui c'era la categoria di non lavoro adesso adesso invece viviamo in un tempo dove qualsiasi momento della giornata o della settimana è buono per indurti al lavoro attraverso gli schermi ecco dicevo come questo tipo di distinzione è venuta meno possiamo dire lo stesso a mio parere della distinzione tra pubblico e privato in fondo non si è mai parlato tanto di privacy come nella nostra epoca perché nella nostra epoca la privacy è qualche cosa che si sta vi è più perdendo grazie mille Mauro ho visto che ci sono due mani alzate anche a te risulta Michele quella di Massimo Pugliese e anche quella di Serena puoi tu allora dare la parola così sì la prima direi che sia stata ad alzarsi la mano di Massimo Pugliese prego un attimo solo mi sentite? sì benissimo ok perfetto vorrei fare una domanda che forse un po' si allontana dalla specificità delle considerazioni che sono state fatte in questo incontro la mia domanda è quanto sono sono stabili sono forti le fondamenta del futuro che ci si che ci aspetta cioè si è parlato di appunto di schermi di divinazione di controllo la pandemia ci ha insegnato in qualche modo che ci ha insegnato a riconsiderare ci ha portato a riconsiderare tutte le nostre certezze io ho avuto la sensazione io studio all'università ho seguito l'università online e tutta questa situazione mi ha dato una sensazione di instabilità sostanzialmente cioè appunto la mia domanda è quanto è stabile quanto perché ad esempio molte connessioni andavano durante le lezioni molte connessioni saltavano quindi non c'era più possibilità appunto di confronto di parlare niente la mia domanda è questa cioè quanto tutte queste considerazioni cioè che importanza concreta sulla nostra vita possono avere tutte queste considerazioni ovviamente sottolineo il fatto che trovo tutti questi discorsi super interessanti che affronterò anche nella mia tesi perché quest'anno scriverò la tesi e la farò su questo argomento però diciamo questa domanda cioè questi quesiti mi diciamo mi balenano in testa e volevo avere un vostro riscontro spero di essere stato chiaro nella mia domanda se siete d'accordo io farei formulare la domanda anche a Serena e così poi vi do la parola volentieri grazie grazie io volevo semplicemente chiedere ho soltanto due domande ma molto generiche una specifica e una un po' più generica la prima riguarda quanto ho accennato prima da Anna Caterina Dalmasso ed era e riguardava questa tendenza degli schermi se non sbaglio citava l'episodio dell'11 settembre parlava della tendenza ad anticipare gli scenari possibili per prevenire eventuali possibili altri episodi diciamo che il reale possa colpirci come forma traumatica ecco da questo punto di vista io mi stavo chiedendo se invece non ci fosse in questo tipo di operazione una tendenza penso prima di tutto illusoria ovviamente a impedirci di essere traumatizzati ma anche già una selezione di questi di questi scenari cioè nel cercare di proteggerci e quindi riprendendo quella duplice funzione degli schermi c'è un tentativo e c'è in realtà un tentativo penso riuscito di esporci ad eventuali altri episodi potenzialmente traumatici e c'è diciamo quello che può essere un'azione performativa e un agency degli schermi particolarmente evidenti l'altro aspetto è correlato in realtà a questo e cioè il discorso sulla performatività ho trovato molto interessante tutto quello che era discorso sulla voce e anche su una corporalità della voce e penso che possa essere estremamente importante vedere e riconfigurarsi della performatività del corpo in relazione allo schermo anche per quanto riguarda altri elementi oltre all'elemento aptico c'è anche tutto quello che è la dimensione corporea nella sua interezza e non soltanto nella sua dimensione fisica ma anche soprattutto in quella affettiva e a questo proposito volevo mi stavo interrogando su un aspetto anche questo sentirsi questo sentirsi guardati dallo schermo che diciamo ha portato a un habitus nel corso della pandemia e a una sorta di neutralizzazione di quello che prima era invece una novità ci ha portato forse da un lato ad avere una sempre maggiore consapevolezza del medium costituito dagli schermi e ci sentiamo sempre più visti dagli schermi anche perché non abbiamo avuto delle alternative però allo stesso tempo è come se avessimo dato ci fossimo esposti a loro e ci fossimo resi ancora più vulnerabili al loro potere quindi io mi chiedevo se semplicemente semplicemente se quella performatività che noi abbiamo non sia in realtà altro che il risultato dell'azione performativa del medium stesso grazie io non vedo altre mani alzate quindi farei volentieri rispondere ai tre curatori del volume vorrei cominciare tu ma eh come vedete se se ho una domanda direttamente se se no provo a rispondere la seconda parte e poi ti lascio la parola no penso che partendo a quest'ultima considerazione sulla performatività diciamo che del corpo in relazione alla tecnologia e sulla considerazione che questa performatività possa essere in qualche modo costituita o influenzata dalla performatività della tecnologia stessa io sono assolutamente d'accordo penso che in realtà la cioè un po' sulla scia di quello che adesso è la riflessione del material engagement che Anna Caterina ha avvocato prima ma che ritroviamo anche in tanta filosofia francese del ventesimo secolo in generale in una prospettiva ontologica relazionale io direi che la prima cosa che c'è è questa relazione che lega il corpo alla tecnologia e al mondo e all'ambiente in cui il corpo è implicato e penso che la dimensione dello sguardo in qualche modo è una di quelle che ci fa di più rendere conto di questa dimensione prima evocavo la separazione tra occhio e sguardo di l'account che secondo me è particolarmente interessante anche da un punto di vista della dello sviluppo dello schema corporeo del modo in cui il fatto di come dire abbiamo poi qui Vittorio Gallese che ci spiega meglio di chiunque altro l'importanza della dimensione speculare all'interno dei processi motori cognitivi del sistema corpo-cervello e come dire l'esperienza di Narciso di rendersi conto in qualche modo di esibile oltre che di essere vedente e l'introduzione di questa reversibilità tra le due parti mostra in qualche modo secondo me come anche noi oggi di fronte a questi schermi in questo rapporto tra l'essere visti e il vedere ma non solo tra l'essere performati in qualche modo si stabilisca poi il nostro rapporto con il mondo e quello che noi siamo io partirei sempre dalla relazione che è ciò che precede tutto il resto ed è per questo che secondo me è molto fondamentale l'esperienza di essere guardati che non è un'esperienza che viviamo solo oggi ma un'esperienza che caratterizza da sempre l'essere umano e non solo l'essere umano in qualche modo ed è ciò che ci permette di mettere prima la relazione perché la relazione viene prima in un rapporto in cui io non sono colui che vede ma sono ciò che viene guardato e sulla sull'instabilità io penso che come dire l'instabilità sia un qualcosa che caratterizza la nostra che caratterizza l'esistenza da sempre in qualche modo ma sicuramente si fa sempre più forte nell'ultimo nell'ultimo periodo e penso che le nuove tecnologie ben rendano conto di quella che è la precarietà della nostra della nostra esistenza leggevo ieri una intervista al filosofo coreano tedesco Han che ha postato Vittorio su Facebook in cui Han appunto Bianchul Han diceva come ad esempio l'aspetto ludico rischia di diventare in qualche modo la nostra interazione con le tecnologie rischia di diventare una droga che ci distragga da questa da questa instabilità allora io penso che il fatto di andare a mettere in evidenza come l'aspetto ludico ma non solo tutte le nostre interazioni con le tecnologie abbiano questo sfondo opaco questo rapporto instabile che lega corpo e mondo che lega tempo e spazio sia il primo modo per cercare di non farci non essere come dire non diventare tossici di questa droga in altro modo secondo me l'instabilità va bene ma va studiata va analizzata va assunta in maniera critica bene Anna se vuoi intervenire anche tu si riprendo la domanda di Serena allora cerco di tratteggiare brevemente anche quello che è meglio quello che intende Grusing con questo concetto l'idea di una della premediazione nasce appunto a partire dall'11 settembre nella misura in cui Grusing riprende le riflessioni che aveva elaborato insieme a David Bolter in Remediation in cui caratterizzavano la tendenza dei media contemporanei di quel momento quindi stiamo parlando della fine del XX secolo come una tendenza a voler realizzare una totale immediatezza e soprattutto a raggiungere una mediazione in tempo reale che si esprimeva nella nella diretta nella diretta televisiva nel reality show e in questa ossessione per una mediazione che avvenga in realtà in assenza di mediazione allora l'11 settembre con la sua capacità cioè essendo stato l'evento a cui abbiamo assistito in tempo reale su scala globale ha realizzato in maniera traumatica questo desiderio questa tendenza e quindi quello che lui suggerisce è che da quel momento in poi i media hanno cercato di al contrario elaborare una strategia opposta cioè evitare il più possibile che un evento del genere possa riformarsi in maniera traumatica e in questo senso lei notava c'è il duplice nella protezione dei media c'è forse qualcuno che ha un effetto di voce e dicevo questo è molto corretto secondo me questo commento rispetto alla duplicità di questo effetto di protezione perché allo stesso tempo questa protezione avviene solo attraverso una somministrazione continua di shock in realtà qui Grusin riprende proprio esplicitamente la riflessione di Benjamin che sviluppa nell'opera d'arte ma anche in altri testi sulla possibilità dei media di creare un training sensoriale e quindi di in qualche modo prepararci o operare una vaccinazione psichica proprio attraverso la somministrazione di questi test di questi shock che si ritrova appunto costantemente nella medialità contemporanea allo stesso tempo l'idea di poter arginare in qualche modo irreale o domesticarlo è per definizione impossibile quindi irreale ritorna e tendenzialmente in forma traumatica come vediamo in tanti fenomeni mediali legati proprio all'utilizzo dei social network e a tutte le forme di da un lato il bombing a cui abbiamo assistito con queste piattaforme ma anche forme di sexting di hating di tutte quelle forme di revenge e shaming che sono legate proprio alla nostra esibizione alla nostra esposizione attraverso gli schermi e quindi in questo senso per riprendere anche un po' la questione che accennava Vittorio su che cosa farcene poi di questo panorama mediale diciamo c'è come un rapporto una dialettica un po' farmacologica per cui da un lato ci sono delle condizioni che i media impongono delle condizioni materiali e processuali e quindi anche un'ideologia che è incarnata da una determinata interfaccia che però possiamo di volta in volta aderire o che possiamo ricreare dall'interno e qui torno appunto ai lavori di Montani in questo senso come per esempio penso a una piattaforma come TikTok che è stata rigiocata in maniera del tutto sovversiva dal famoso video di Feroza Aziz che pur aderendo completamente a ragazza che ha sostanzialmente postato un video in cui facendo un tutorial di make-up che a tutti gli effetti appunto aderendo ai codici del medium utilizza il video per rilasciare la percezione della distanza di fiori in Cina oppure penso a la notizia che ha parlato di ieri l'altro ieri questa ragazza da sfuggire al suo utilizzando un gesto che è stato diffuso da una fondazione per la protezione delle donne e per la prevenzione della violenza sulle donne che è stata trasmessa proprio attraverso TikTok e quindi attraverso questa gestualità che è stata veicolata proprio dall'interfaccia dello schermo quindi ci sono anche appunto delle forme di creatività di sovversione di resistenza che sono diciamo che sono allo stesso tempo delle possibilità aperte all'interno dell'interfaccia ecco spero di avere risposto grazie grazie Anna Caterina io vedo un paio di interventi di richieste di intervento di Valentina Padalino e di Vittorio Gallese io ho solo una comunicazione di servizio da parte di Michela Guerra che vi ringrazia e vi saluta purtroppo nella sua veste di assessora alla cultura di Parma aveva un impegno istituzionale alle 13 e quindi ci ha dovuto lasciare quindi trasmetto a voi e a tutti coloro che ci stanno seguendo i suoi saluti e mi taccio per dare la parola a Valentina Paladino grazie Vittorio sì buongiorno grazie mi sentite sì vorrei chiedere abbiamo detto che stabiliamo frequentemente un rapporto sinestetico con il mondo l'abbiamo detto per rappresentare la multimodalità con cui sovente ne facciamo esperienza sentendo parlare degli schermi dei dispositivi multimediali con cui che spessissimo utilizziamo nel nostro quotidiano mi è venuto in mente che forse facciamo esperienza del mondo anche in maniera metoninica spesso in cui cioè un elemento sta al posto di un altro per esempio attraverso l'uso degli schermi l'immagine di una persona sta al posto della persona o anche nell'eye tracking precedentemente citato dal professore lo schermo sta al posto dello sguardo allora vorrei semplicemente domandare se è legittimo rappresentarsi il nostro rapporto del mondo anche in termini di metonimia oltre che di sinestesia e in particolare questo in che modo modifica il nostro rapporto con la realtà in particolare se lo complica spero di essere stata chiara è stata molto chiara signorina e la ringrazio molto per questa domanda che è una domanda in effetti molto importante che solleva delle questioni assolutamente centrali dovrebbe chiudere il microfono però per favore se no abbiamo un eco eccolo l'ho chiuso io credo che sia assolutamente legittimo vedere il rapporto con leggere il rapporto con la realtà che gli schermi mediano anche in termini di un rapporto che viene come dire orientato in senso metonimico come lei ha detto dove questo orientamento metonimico non è innocente ovviamente nel senso che molto spesso è anzi tolgo molto spesso si tratta di un rapporto metonimico che è orientato in quel senso attraverso certi algoritmi che favoriscono questo tipo di orientamento e mi pare di dover mettere questo che stiamo dicendo e che comporta lo stabilirsi di un certo nostro rapporto col mondo e qui mi fermo un attimo poi proseguo con la risposta a lei ma volevo anche riprendere la prima domanda che è stata fatta non ricordo più il nome dello studente che l'aveva formulata mi sembrava una domanda molto molto significativa cioè la domanda era va bene anche a me interessano queste cose di cui voi state parlando però concretamente no c'era questa questa esigenza di concretezza nel alla quale alla quale lo studente ci richiamava a me tutto questo ha fatto venire in mente una frase di Proust che dice ciò che chiamiamo realtà è un certo rapporto tra sensazioni e ricordi che ci circondano simultaneamente quindi concretamente la realtà non è qualche cosa di neutrale di fisso di stabile di inattaccabile che sta al di fuori di noi ma la realtà appunto è un certo rapporto che noi stabiliamo tra sensazioni e ricordi il nostro problema in questa fase storica è che la mediazione attraverso cui stabiliamo questi rapporti le mediazioni con cui stabiliamo questi rapporti con ciò che chiamiamo realtà sono mediazioni che si stanno moltiplicando e si stanno anche diversificando sempre di più in una maniera tale per cui come ha detto Obama ed è molto simpatico mettere insieme in uno stesso discorso Proust e Obama il rischio è che ciascuno di noi abbia una idea solo sua di che cos'è realtà questo è estremamente concreto questo è nello stesso tempo estremamente instabile per riprendere la terminologia che è stata usata ma anche estremamente concreto nel senso che è il pericolo più concreto che noi stiamo correndo quello di non avere più un rapporto condiviso di mediazione con ciò che chiamiamo realtà e quindi ciascuno avere un suo proprio singolare o ristretto ad una bolla rapporto con la realtà che diventa in contrasto con quello altrui e da qui nascono negazionismo complottismo assalto al campidoglio americano del 6 gennaio e così via in questo senso quello su cui cerchiamo di ragionare quando parliamo di schermi è qualche cosa di estremamente concreto perché ha a che fare con la possibilità di rendere meno instabile il nostro rapporto con la realtà ma nello stesso tempo e qui riprendo il filo della domanda che mi è stata posta questo rapporto metonimico che sempre più tendiamo a stabilire con la realtà è un rapporto che ci modifica al punto da doverci far interrogare su che cosa ne è del nostro stare al mondo se sia ancora definibile in termini di soggettivazione oppure di individuazione oppure come a me sembra di dover suggerire lo ricordava prima Jacopo Bodini in termini di individuazione individuazione è una parola che uso perché individuazione individuo è una parola che etimologicamente significa indivisibile ecco l'esperienza dei nostri rapporti con gli schermi mi sembra che sia un'esperienza che sempre più mette in discussione la nostra indivisibilità quella nostra caratterizzazione di individui che è alla base del soggetto moderno e sempre più le relazioni nella loro centralità che Jacopo richiamava tendono a produrre degli elementi individuali di noi stessi con i quali siamo simultaneamente chiamati a fare i conti noi e gli altri ecco la mettonimizzazione del nostro rapporto col mondo in questo senso invita a interrogarci appunto se volete il gioco di parole sulla metafora della nostra individualità che a me sembra messa in discussione e anche questo costituisce ovviamente l'altra faccia di quella condizione di instabilità alla quale chi ha formulato la prima domanda faceva opportunamente riferimento grazie mauro grazie anche ad anna caterina e a jacopo non so se vuoi aggiungere qualche cosa vittorio io direi che possiamo anche chiudere con l'ultimo intervento di mauro cosa dici vittorio non ti sentiamo un classico siparietto che non può mancare in queste forme di relazione immediata dalla piattaforma sì concluderei ringraziando i nostri ospiti potremmo andare molto oltre perché il libro è così denso di spunti che ed è un libro così attuale ma non vogliamo abusare della pazienza di chi ci ascolta e dei numerosi spettatori che seguiranno in differita questo incontro che ho trovato davvero molto interessante vi rinnovo i saluti di Michele che purtroppo come dicevo prima doveva assolutamente partecipare a un altro evento alle ore 13 vi ringrazio e ci diamo appuntamento spero tra non molto per rifare il punto insieme su questa che è uno dei temi più caldi della contemporaneità e come dicevo prima che fortunatamente vede la ricerca italiana dire la sua in modo più che autorevole anche grazie ai contributi dei nostri ospiti di oggi ringrazio Rita e i suoi colleghi della consulta di estetica e ci rivediamo per un prossimo appuntamento per presentare altri libri interessanti come questo grazie a tutti e a questo punto direi buon pranzo grazie anche da parte mia grazie a tutti arrivederci a presto grazie mille interessantissimo sì davvero molto interessante grazie a tutti